Good morning, buongiorno, nuova settimana, nuovo mese, no, abbiamo già trasmesso, la settimana scorsa l'ho cancellata da mia mente, questa roba che c'era la festa in mezzo alla settimana, ha fatto un po' di confusione, e sono arrivato a venerdì stanchissimo. Ti faccio sapere che siamo andati in onda due ore al giorno, lunedì, martedì, giovedì e venerdì, quindi sì, ma oggi è lunedì 6 novembre, che? Lo cercheremo più avanti? No, no, prima di tutto, vabbè, su un'altra radio parte una trasmissione che ci fa concorrenza, eh sì, il fiore. Ah sì, è vero, è vero. Ma voi ascoltate noi, ma voi ascoltate noi, perché siamo molto, no, anche va bene, non so se vi siete accorti, abbiamo piombato la radio, non potete cambiare canale, quindi dovete rimanere per forza su Crystal Radio, ma no, 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 eh sì, oh, tutti gli anni io attacco qualche settimana per lui e lui tacca dietro, cioè, vabbè, basta, però, fatti una vita, fatti una vita, infatti, mi dicono, fiorello, fatti una vita, cioè, sempre a stare in cormi. 3, 3, 1, eh, 7, 8, 5, 3, 5, 5, 5, 5, non si è mai visto in nessuna radio che uno inizia a dire i primi tre numeri di un numero e poi si gira verso il collega, leggermente distratto, per fargli dire gli altri, non si è mai visto. Mi aspettavo che mi dicessi solo i primi due, cioè, volevo fare 3, 3, 1, 7, 8, 5, 3, 5, 5, 5, vedi, così è pari merito, sono cinque numeri a testa, abbiamo detto. Sì, però adesso non ha capito niente. No, infatti. Allora, tu, beh, un miscredente, caro Lorenzo Masieri, perché, allora, prima di tutto, siamo la prima trasmissione radiofonica in Italia che apre senza dire su che radio siamo, qual è il nostro titolo, qual è chi siamo noi, ma infatti, ma chi siamo noi per giudicare? Cosa vuol dire? Non lo so, citazione papesca, ha voluto fare questa cosa, ma nonostante questo ci arrivano già in Whatsapp, vedi? Eh sì, perché? Non dobbiamo, perché il nostro pubblico è imparato, non dobbiamo imparare di niente, capito? Assolutamente vero. Non dobbiamo insegnare nulla a voi altri che ci state ascoltando, grazie al pubblico di Crystal Radio e Good Morning Milano, 331-7853-555, il numero di Whatsapp, grazie Alberto che ci scrive, buongiorno Fabio, buongiorno Lorenzo, un saluto agli ascoltatori di Crystal Radio e una buona settimana a tutti. Eccoci, inizio di settimana, inizio di settimana che però sarà, per parlare, i primi minuti si parla sempre di ATM eccetera, sarà segnata da uno sciopero perché il 10-11, il 10 novembre, ATM sostanzialmente andrà in scena appunto un'agitazione di 24 ore dei dipendenti ATM proclamata dal sindacato al Cobas. Scusi una domanda, agitazione vuol dire sciopero? Agitazione vuol dire sciopero. Ah, quindi sciopero, ecco, usiamo la parola agitazione ma sempre sciopero. Allora, l'Ansa riporta le solite fasce di garanzia. Invece l'Ansia nostra come la gestiamo invece? Mentre, per esempio, Milano Today, che sto leggendo in questo momento, dice che l'ATM non fa sapere fasce di garanzia. Cercheremo di capire direttamente dal sito ATM il 10 novembre. Eh, c'è ancora tempo, ben cinque giorni. Ma soprattutto, soprattutto c'è da sottolineare, come appunto titola Milano Today, però è un po' tutto da capire perché, vabbè, c'è tempo, che ci saranno cinque scioperi in 17 giorni. Ah, però. Perché sostanzialmente il 17 novembre, quindi il venerdì successivo, ci sarà uno sciopero nazionale dei lavoratori di tutte le categorie pubbliche e private, indetto da CGL e Cisley Will. Quindi sicuramente sigle sindacali con maggiore peso, con tutto rispetto, rispetto dal Cobas e quindi di conseguenza sicuramente maggiore adesione. Però non si è capito se sono coinvolte anche, se è coinvolta la mobilità pubblica. Mentre il 24 novembre si replica sempre CGL e Cisley Will, perché in quel caso lo sciopero riguarderà tutte le lavoratrici e i lavoratori delle regioni del nord. Però è tutto da vedere, bisogna capire se saranno interessati solamente alcuni settori in un caso e altri in un altro, eccetera, eccetera. Quello che rimane è che sicuramente il 10 novembre, quindi questo venerdì, ci sarà un'agitazione su Alcobro. Sono sul sito di ATM, ATM dà l'agitazione tra le 8.45 e le 15 e dalle 18 fino a fine servizio, quindi le solite due fasce di sciopero classico. Sono andato, come sempre sai, che vado a vedermi le adesioni agli scorsi. Quello del 18 settembre ha aderito il 15% dei lavoratori ATM, quello del 9 ottobre il 17%, quello del 20 ottobre è un leggermente più alto 19,3%. Ma comunque siamo sempre sotto il 20%, ormai non si supera il 20% dal marzo del 2023. E prima ancora sì, non si supera le cifre che abbiano un senso dal 2021. Però comunque fate attenzione, ecco. Fate attenzione, fate attenzione anche al traffico, fate attenzione a tutto quello che è la viabilità in questo momento, grazie al nostro collegamento con Luce Verde che ci dà la situazione su Milano in questo istante. Guarantee, Black Eyed Peas, 7,20 minuti, buona lunedì ancora, buona giornata e buona settimana. A tutti quanti qui sulle frequenze di Crystal Radio all'interno di Good Morning Milano, il morning show di Milano, il morning show che sveglie milanesi, il miglior morning show in circolazione. Beh, secondo me... Questa è passibile denuncia credo, non so, no, è pubblicità ingannevole. Non è vero, non è ingannevole, siamo veramente migliori. Ringraziamo la redazione di Luce Verde che ci ha parlato appunto della mobilità in questo momento, della situazione del traffico a Milano e chiudiamo la pagina dei trasporti ricordando che da oggi fino a venerdì 10 novembre, dopo le 20, quindi dopo le 8 di sera, cambiano il servizio dei tram 2, 4, 12 e 14 perché sono in programma degli interventi di manutenzione ai binari in zona Lanza, quindi per il rinnovo dei binari da questo lunedì a questo venerdì, dopo le 20, alcune linee saranno deviate e se dovete prenderle buttate l'occhio sul sito TM. Pensavo, attaccatevi al tram. No. No, no, sono qui il caso. Va bene. Allora. Dimmi, so che hai delle notizie da darci. Weekend. Notizie sicuramente non fresche, però sicuramente da dare il lunedì mattina. Beh, sono 5 gradi fuori. Ecco, sotto quel punto di vista freschissime, anzi freddissime. Nella notte tra venerdì e sabato a Milano ci sono stati due eventi, due fatti di sangue, i giornali titolano così, poi su quanto sia bello o meno questa espressione si può disquisire, però due fatti di sangue nella notte tra venerdì e sabato, entrambi in zone della Movida, uno fuori dai locali di Corso Como e un'altra in Darsena. Sostanzialmente fuori dalla Movida di Corso Como è una rissa tra diversi ragazzi, tre minorenni arrestati appunto per tentato omicidio in Corso Como, sono appunto partite anche delle coltellate e una rissa invece in zona Darsena tra due uomini che appunto si sono accoltellati alla gola e alla spalla. Come l'hanno affrontato e come l'hanno preso i giornali questa notizia? Ma i giornali si limitano a riportare, ma nemmeno tanto, nemmeno tanto. Il sindaco invece ieri mattina in occasione della deposizione della corona dei fiori al Sacrario dei Caduti in occasione appunto della giornata delle forze armate ha detto c'è la sensazione di uno scarso rischio da parte di chi delinque e forse è anche, adesso possiamo disquisire o meno sul fatto che il sindaco ha responsabilità, non ha responsabilità, eccetera. Secondo me appunto come li sostiene lui e come effettivamente è la responsabilità di un sindaco è marginale rispetto a quello del Ministero degli Interni, eccetera, eccetera. La questione è appunto c'è uno scarso rischio da parte di chi delinque sicuramente, però mi permetto anche di aggiungere che forse quando si parla di Deor, chiusi, prima, eccetera, non bisogna parlare di sicurezza, bisogna parlare di decibel, bisogna parlare di inquinamento acustico, la sicurezza è un'altra cosa perché sappiamo benissimo tutte le martini... forse qualcuno in strada in più è più sicuro di qualcuno in strada in meno? Cioè il Deor aperto è vero che porta la possibilità di avere magari quello ubriaco che dà la bottiglata in testa a quell'altro e quindi non è molto sicuro, però in realtà su tutta la gente che c'è è uno quello che fa il pirla, invece in questi casi tu lasci spazio alla delinquenza anche o alla possibilità comunque di sistemare le cose, le faccende in situazioni in cui non ci sia grande controllo anche da parte degli altri avventori, comunque insomma, magari un coltello non lo tiri fuori se hai i 200 occhi addosso. Ma soprattutto ci sono delle zone assolutamente da, come si può dire, da vigilare in maniera più attenta rispetto ad altri, perché il sabato mattina e la domenica mattina io come tutti i giorni guardo, anche se vengo in radio, i giornali c'è sempre sabato mattina e domenica mattina qualcuno che si accoltella qualche risa eccetera fuori dai soliti locali di Corso Como e sempre nella zona della Darsena, quindi sostanzialmente i vigili possono fare qualcosa, magari no, magari no, a questo punto o magari sì, cerchiamo di capire un po', sicuramente il sindaco tornerà su questo tema e il tema è sempre stato molto molto scottante. Continuiamo con la musica, siamo a novembre, ve l'avevo promesso e quindi ve la rimetto anche oggi e questa sì, è Giussi Ferreri con novembre, perché siamo a novembre, siamo inequivocabili, siamo didascalici ma inequivocabili, infatti come ha detto giustamente Masieri. A fra poco, ciao ciao! Tracey Chapman, talking about revolution, parlami di rivoluzioni, vai Novenzo Masieri. Ah dai, sei il mio professore di storia contemporanea all'esame, parli delle rivoluzioni, da quelle industriali in poi. Che è bello l'esame di storia contemporanea. Sì? Sì, sì, sì. Bellissimo. Non lo so, non l'ho mai fatto. No, no, stupendo, stupendo. Iscrivetevi all'Università Statale di Milano, faccio la marchetta. Sì? No, la marchetta non ti pagano, quindi non è la marchetta. Per fare il corso di storia contemporanea che è stupendo con un professore che fa... Domeniamolo! Marco Cuzzi. Marco Cuzzi è un professore che a Milano si direbbe da madonna, perché ti fa proprio entrare nella storia, veramente, veramente, e poi ha una storia incredibile e quindi farcisce tutti i racconti con aneddoti personali che poi ti rimangono nella testa. E ti aiutano a capire la storia. Ti aiuta, cita film, libri, ce l'ha con Nicolas Cage, non so per quale ragione, lo cita sempre, però... Lo cita in positivo o in negativo? In negativo. Ma allora è una citazione, adesso non mi ricordo di che film, ma è una citazione che citano sempre Nicolas Cage in maniera negativa, adesso se qualcuno me lo può ricordare però 3317853555, ho questa, sì, mi ricordo di questa cosa di Nicolas Cage, che anzi viene costretto qualcuno a vedere tutta la filmografia di Nicolas Cage per... Forse Brooklyn Nine-Nine, forse, la serie tv Brooklyn Nine-Nine, forse. È abbastanza bersagliato, diciamo, Nicolas Cage. Sì, sì, sì. Comunque, se avete la possibilità, appunto... Come si chiama il professore? Marco Cuzzi. Professor Marco Cuzzi, ma chiamiamolo, non possiamo chiamarlo una volta e averlo... Beh, hai fatto l'esame con lui? Sì, cioè con l'assistente, perché... Lo troviamo, dai. Il corso di storia contemporanea in scienze umanistiche per la comunicazione è leggermente battuto, ci saremo 400 persone. Ah, è tipo un concorso per la magistratura. È l'esame, è l'esame, ai tempi 12 crediti, poi l'hanno scorporato, perché c'era... Molti casini. Comunque, sempre al 33... Scusate. Sempre al 331, 78, 53, 555. Appunto, prima abbiamo parlato di sicurezza, di ciò che è successo nel weekend, eccetera. Nel caso fateci sapere come la pensate, se anche voi pensate che ci siano delle zone da attenzione... Attenzionare, esiste, esiste. Attenzionare, ecco. Attenzione proprio da polizia. Attenzione speciale, mettiamola così. Ma problemi di sicurezza anche all'interno delle carceri, perché venerdì appunto un polizotto penitenziario è finito in ospedale per cercare di sedare una rivolta tra detenuti contro detenuti al carcere minorile, appunto Beccaria. Ha il discorso sulle carceri, sulla sicurezza interna delle carceri, per chi ci lavora, è un altro mega discorsone da affrontare a Milano, quindi sicurezza fuori sì, ma anche sicurezza dentro le carceri, ricordando sempre ciò per cui sono state create le carceri, giusto che è la funzione rieducativa. Mamma mia, mi senti sempre... Ormai il manifesto politico di Lorenzo Basieri si va sempre più a delineare, io non vorrei che sia qui per lanciare una carriera politica che... Posso dire, sono robe di buonsenso. Ah, ok, vabbè, mamma. Io l'ultima volta che ho parlato di buonsenso ho detto non nominatelo mai più il buonsenso, adesso se vi ricordate durante la pandemia il buonsenso, il buonsenso, abbiamo visto che il buonsenso non era di casa da queste parti. Non l'ho detto, usciremo migliori. Ma meno male, meno male. A quello non ho mai creduto. Anche se secondo me nei prossimi minuti, se ascoltate Cristian Radio, ne uscirete migliori. Perché sta per partire un brano che, per te, credo sia quasi un inno alla vita. Quando parte questa... Vabbè, la citiamo. Quando parte Stupendo al concerto... Ti senti tirato in causa. Ci sono quei brividi sul... Si sente proprio una voce dello stadio che fa venire i brividi. E allora ruolate tutti insieme con noi, cosa devono ruolare? Siiii, stupendo! Vasco e Rossi con Stupendo! Ti sei alzato minimamente e non hai tolto la cuffia, stavolta niente. Da solito invece fai cose, vedi i geni, ti scrivi. E invece no, a volte sei rimasto qua. Perché dall'inizio alla fine era una canzone capolavoro. Poi alla fine c'è questo assolo che era appunto incredibile. E quindi sostanzialmente è proprio da ascoltare dall'inizio alla fine senza distrarsi. Anche se stavo leggendo un po' di notizie. Che adesso magari ci racconti? Si, allora apriamo tutto il tema alluvione. Alluvione a Milano, sapete. Alluvione di martedì 31 ottobre. L'alluvione di Halloween. L'alluvione di Halloween. Un'assonanza, vedi? Che è stata quella che ha fatto più danni. Poi anche venerdì pioggia torrenziale, però livelli dei fiumi entro i limiti, seppur critici. E poi altra pioggia torrenziale, sabato, nel corso di tutto sabato, in particolare sabato sera. Segnaliamo che appunto ieri mattina, o comunque nella notte, non è chiarissimo, è caduto un albero che non era in sicurezza ai giardini indromontanelli. Ed è caduto su un pullman privato di turisti polacchi, parcheggiato per fortuna appunto vuoto. Però ecco, questo qua probabilmente, chiaramente non si può capire se un albero cade per l'alluvione di pochi giorni prima. Se invece per l'alluvione di metà luglio, chiaramente non si capisce. Certo è che a Milano c'erano tanti alberi, adesso non ricordo un numero preciso, però erano state fatte tante segnalazioni, tanti interventi, dopo il maltempo di metà luglio, per vedere appunto quali erano gli alberi in stato pericolante, diciamo, e alcuni sono venuti giù anche con questa alluvione purtroppo. Ma anche altri danni, altri danni in particolare ai locali dell'isola, che è stata la zona, diciamo, più colpita sicuramente, la zona residenziale più colpita. Infatti il giorno Milano fa... Prego, vuoi intervenire? No, 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 sì, 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 abbiamo visto anche le immagini, sia zona isola, zona fontana, zona via le sarca, cioè tutta la parte... la famosa bed house, quindi intanto... Eh, infatti stavo citando un articolo del giorno Milano, molto interessante. Allora, noi direi, casa di Gaemon, tra parentesi, c'è stata l'acqua. Anzi, casa del signor Demo. Del signor Demo Fetta, ma anche, soprattutto, casa di Gaemon, c'è stata l'acqua. Il giorno Milano fa un bel servizio, appunto, sulle sondazioni del Seveso, intervistando Gigi Beda, che per chi è della zona è il... è il signore anziano, sparche... Come si chiama? Gigi Beda. Del bed house. Del bed house, esatto, che è sempre seduto lì, incredibilmente, fino alle 2, eccetera, è un locale che, qualche volta, mi capita di andare. Se siete nella zona Milano, sicuramente saranno andati perché incuriositi dall'esterno. E, infatti, sottolinea che sono stati chiusi 4 giorni, hanno riaperto solamente sabato sera. Cavolo. Da martedì dell'alluvione. È saltato l'evento di Halloween, che per il bed house è un evento che porta molto, molto, molti incassi, e, soprattutto, danni all'arredamento, che, come sapete, appunto per il bed house, lo conoscete, è sostanzialmente il biglietto da visita. Eh sì, è fondamentale, eccetera, per circa 30.000 euro. Ma è cavolo, insomma, un bel danno, bel danno. E chiaramente non è l'unico locale che ha subito conseguenze dal maltempo, ce ne sono molti altri, certo è che è un bestione, se siete nella zona Maciacchini, eccetera, quando passate è proprio un bel bestione. Sì, no, quello che c'è da pensare è, questa volta veramente abbiamo sentito tante voci, di gente che, insomma, ha alzato la voce per dire, basta, non ne possiamo più. Ho tanta paura che questa cosa venga spazzata via dall'acqua, così, senza poi avere veramente delle conseguenze. Ma forse un rimedio c'è? Non lo so. Ah, non so, le famose basche? Ne parliamo ancora sulla seconda lavoro. Ne parliamo più avanti. Buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è 36 ore. 36 ore anziché 40 ore. Accade a FastWeb dal 1 gennaio del 2024. L'ho annunciato il CEO, nuovo CEO, Valterrenna, adottato in forma stabile anche lo smart working. Ebbene, in questo periodo si parla spesso di 36 ore alla settimana, anziché 40. Ecco un esempio concreto da Milano. La seconda parola chiave della settimana è aumenti. Aumenti per i dipendenti di Intesa San Paolo, 435 euro in più in anticipo rispetto al rinnovo del contratto. Importanti le parole del CEO Carlo Messina, che ha detto a Brescia Mi vergogno a guardare le mie persone se non garantisco loro degli aumenti di stipendio. Terza e ultima parola chiave della settimana è Grandi Opere. Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. Da oggi è esposta la talpa, battezzata Stefania, usata dall'azienda WeBuild, sappiamo con sede a Rozzano, per costruire una parte della tratta della Metropolitana 4 di Milano. Ebbene, la talpa Stefania sarà accanto a sommergibile Totti, in sostanza due grandi opere. E sappiamo bene come Milano ha contribuito alla realizzazione di grandi opere. Una per tutti, il Duomo di Milano, costruito a partire dalla fine del Trecento. Benvengano dunque anche a Milano le grandi opere. Buon lavoro a tutti. Buon lavoro a tutti. Questo era Filippo Poletti, giusto? Filippo Poletti che tutti i lunedì ci dà le notizie sul lavoro. Hai sentito questa cosa della TBM? La talpa, scusa. Sì, sì. Non è tecnico, io sai che sono. Cosa è la TBM? La talpa. Si chiama TBM. Parla come mangi. Il nome tecnico sta per TBMachine. M sta per machine, TBM non mi... Molto interessante, ma ho visto anche esposta una talpa, non so se tratta di quella, davanti alla Triennale poco tempo fa. Sì, credo sia quella che fece la M5, credo che sia quella. Ok. E invece se vai al Museo dei Trasporti di Lucerna, c'è quella che fece il traforo del San Gottardo. Ah, interessante. Tre volte la TBM della metropolitana, una roba immensa. Eh, immagino. Già mi sembra una talpa, perché sono passato nella bellissima ciclabile che costeggia il Parco Sempione, e quindi mi sono trovato di fianco a questi due nastrini che segnalavano il fatto di non potete avvicinare a questo bestione appunto. Un bestione, un bestione, un bestione pazzesco. Ma quella lì poi è solo il pezzo davanti, e tu devi vedere cosa c'è dietro poi. Una TBM è lunga qualche chilometro alla fine, quando viene montata tutta, perché davanti scava, poi viene buttato tutto il pietriccio, viene buttato indietro, fino a uscire fuori. E c'è tutto questo nastro asportatore che lo porta indietro. E davanti, mentre spacca tutto, fa anche il cemento. Cioè, nel senso, cominciano a consolidare il buco. Hai sicuramente guardato quel video di Joe Pop. No, lo sapevo già da prima a pensare. Sai che sono appassionato di treni, di strade qua, quindi insomma, è molto molto importante. Come interessante, appunto, è l'intervento che tutti i lunedì fa Filippo Poletti. Che ringraziamo. Su Crystal Radio, su Good Morning Milano. Grazie, seguitelo su LinkedIn. Lui tutti i giorni dà le notizie sul mondo del lavoro. Buone notizie. Buone notizie, buone notizie, buone notizie, buone notizie sul mondo del lavoro. Continuiamo con la musica. Vi potrà sembrare di sentire suonare i subsonica, non è proprio così. Ma lui comunque è Samuel. Samuel con la pesce. The Twins, face to face, heart to heart. La canzone History. Sai cos'è l'History? Devo spiegare? O sei nuovo di qua, Masieri? Il Crystal History. Il Crystal History, sai cos'è? Cos'è il Crystal History, dai? Il Crystal History è Crystal History, è la rubrica di Crystal Radio, in cui sostanzialmente si fa riscoprire un grande successo del passato, un grande classico del passato. Ma che bravo, ma che bravo, 18 ti dobbiamo lo stesso, perché non avevi studiato, sei stato solo bravo a... Ma dal Crystal History arriviamo a una delle band di maggior successo degli ultimi 20 anni, forse anche di più. I ricchi e i poveri? No. Nel panorama rock e punk rock. I punkass! No, però ci piacciono, i punkass ci piacciono. Eh sì, a Parabiagos, sì, sì. Ma per caso a Parabiagos, a Camilano? Sì, no, però dico, frequento posti che frequentano i punkass, come sai bene. Sì, sì, lo sappiamo, sappiamo. Ma stavo parlando dei Green Day, perché come abbiamo detto venerdì, è annunciato, sì, il concerto all'ippodromo in vista della prossima estate, così come i due concerti a San Siro di Bruce Springsteen, che apriranno la stagione concertistica al Meazza. I 48 concerti di Vasco. 48 concerti di Vasco. Tutti lo stesso giorno? No, non tutti lo stesso. Ma il Green Day, perché li cito? Perché ieri, a sorpresa, così, debotto, senza senso, hanno annunciato che il 7, ossia domani, saranno i magazzini generali. Ma come? Qua a Milano? Sì, fanno quella toccata e fuga. Adesso le grandi band fanno questa cosa. Cioè la sveltina si chiama. Esatto, la sveltina fanno uscire pochissimi biglietti, perché i magazzini generali avranno pochissimi biglietti. 7, 8 persone non di più, parenti, amici, contusi. Chiaramente, a prezzi spropositati, perché vabbè, ci sta. Ma nemmeno tanto, è 105 euro, se ti piacciono i Green Day, non sono niente per vederli ai magazzini generali. Va bene. No, va bene. Beh, considerando che i biglietti per l'ippodromo, immagino costeranno intorno alla settantina, il problema sarà accapparrarseli, perché appunto sono pochissimi. Il fatto sta che i Green Day hanno annunciato un live a sorpresa due giorni prima del concerto. I biglietti usciranno oggi, quindi il giorno prima. Mille biglietti a 104 euro. Mille biglietti. Se volete andare a vedere Green Day, siete così tanto fan, cercate di accapparrarveli, perché è sicuramente un'occasione imperdibile. Come i Muse hanno fatto poco tempo fa un tour nei club italiani, hanno fatto, se non sbaglio, due date all'Alcatraz. Sì, ho visto i Muse a San Siro, capolavoro. Non riesco a immaginarli all'Alcatraz che potenza che hanno avuto sul palco. Devo dire che mi piace questa cosa di riscoprire certi luoghi dei concerti, perché benissimo, vasco a San Siro, però puoi mettere quando sei appunto in un luogo un po' più chiuso, quando sei lì che li ascolti, dal forum in giù, non so come dire, sempre si tende ad andare in su, invece dal forum in giù. Venite qua, in cortile da noi. Bernardo Bavisconti qua, a San Siro. Mettiamo giù un parchettino fatto con i pallets. Facciamo salire su Bruce Springsteen. Ah, sì, il bene boss. Veniamo noi, quanti siamo? I soci di Spazio Umano, i soci di Cristiano Radio. Dove mi trovesto la cantante di Kiss? Siamo una settantina, un'ottantina di persone. Ci mettiamo qui in cortile. Poi vi offremmo anche la sangria, se volete, dai. Va bene. Va bene? E ci ascoltiamo Bruce Springsteen in concerto. No, vabbè, ci sono tanti locali che, per fortuna, dopo la pandemia si sono risollevati grazie a molti concerti, luoghi, diciamo, locali, appunto, in cui si fa musica dal vivo. Troppe, troppe volte, purtroppo, però solo tribute band. E io sono, cioè... Tu sei il numero uno delle cover band. No, a me le tribute band non fanno impazzire, però vado, infatti... Però vado, vado. Perché ci sono sempre all'interno della sagra della polenta, la sagra della patata, la sagra di su e di giù. Perché c'è sempre la parte culinaria insieme alla... Assoluto, assoluto. Cioè, tu vorresti... Parte culinaria è edeno gastro... edeno, anzi. Mamma mia, cioè... Tribute band del... del Barbera. Cioè, tu saresti... Tu impazziresti. La tribute band del Barbera, impazziresti. Tribute band, i polentoni. Cioè, che fanno solo polenta. Tribute band è la salamella. Sì, ma... Altre, la tribute band sono sempre quelle, più che altro. Sì, sì, ma tu proprio vorresti una tribute band... Penso che è una tribute band che fa solo salamelle. Ma che stai... Ti lancia salamelle sul pubblico. Dal palco. Dal palco, così, cioè... Cuoce... Cuoce... No, 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 non canta niente. Cioè, loro fanno la tribute alla salamella. Ah. Tribute alla salamella. Cioè, tu immagini il palco, pieno di piastre roventi, e loro grigliano salamelle e le lanciano al pubblico. Stiamo delirando. Siamo stati sponsor... Allora, Cristian Radio è stato il media partner della festa di Cisano Boscone. Che in cui sicuramente non è successo questo. Il prossimo anno proporremo la tribute band della salamella. Vabbè? Vabbè. Vabbè. Non si può fare. Io mi sono rassegnato. Non si può fare. Lancio della salamella. Lancio delle salamelle. Poi non tornare solo le notizie. Perché poi anche lì come i gruppi, no? Evidentemente no. E no, perché come i gruppi, poi, c'è il solista, c'è il gruppo, quello con la chitarra, diciamo, centrale, che lancia le salamelle. Sì. Poi ci sono quelli di accessori, no? Cioè, gli altri compiti del gruppo. Chi spruzza il ketchup, chi lancia le fette di formaggio. Ma quindi il panino ti danno, alla fine. Eh, alla fine, se tu sei bravo a prendere i pezzi, tutti sì. È tipo un gioco... È tipo un gioco. Tu esci il tuo sporco di salamella e ketchup, volendo ti puoi fare poi le carri dal cane per pulire. Io dico così, ma ho dato chiaramente a Andrea una roba del genere. Vedi? 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 Adesso iniziano le varie fiere, quanto è tipo la fiera del Gvimbrule. Comunque, quando parlavi di gruppi famosi in questo momento, pensavo parlassi di quelli che vanno adesso, invece. I Mane Skin. Honey, how are you coming? Sei arrivato? Dolcezza. Ciao, dolcezza. Ciao, dolcezza. Tutto pazzo. Tutto pazzo. Ma come è tutto pazzo? Delirio. Delirio completo alle 8. E sono solo le 8.17 del mattino. E sono solo le 8.17. Solo, solo per te. C'è gente che sveglia alle 5 del mattino e si sta facendo un mazzo tanto a lavorare, non come te che stai qua a raccontare le tue fregnacce davanti al microfono. Questo è oggettivamente vero. Questo è oggettivamente vero. Ma nelle tante fregnacce che ci racconta qui il Presidente Masieri ci sono anche le notizie importanti che arrivano dal territorio. Dal territorio, esatto. E non solo quello milanese, perché... Ci spostiamo dove? Ci spostiamo in Toscana, perché come sapete si stava parlando di alluvione, la Toscana è stata la regione maggiormente colpita. è brutto da dire a questo giro dell'alluvione, perché ricordiamo benissimo cosa è successo a inizio estate in Emilia Romagna. Sostanzialmente questa mattina sono arrivati 8 volontari milanesi della protezione civile, i cosiddetti appunto angeli del fango, titolano i giornali locali che andranno ad aiutare la popolazione toscana a risollevarsi dai danni dell'alluvione, che appunto sono tantissimi, come sappiamo, ma nonostante questo il calcio non si ferma. Cosa c'entra sta roba? Eh, perché vedi che non hai seguito niente. No, non ho seguito niente. Non hai seguito niente, perché è stata richiesta di... Ieri è stato richiesto di posticipare la... di rinviare la partita Juve... No, scusate, Fiorentina-Juventus. Oh, Fiorentina! Fiorentina-Juventus all'Artemio Franchi. E non l'hanno fatto. Da Eugenio Gianni, Presidente della Regione Toscana, eccetera, 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 non è stato fatto. Il Ministero degli Interni e il Ministero dello Sport hanno detto di no, che non si poteva fare. Scusate, il Ministero degli Interni ha detto di no? Sì. Ah, ok. Noi pensavano a FIGICI, quelle robe lì. Per quanto riguarda la sicurezza, eccetera, chiaramente se ne occupa il Ministro degli Interni e se ne occupa piante e dosi. Fatto sta che la curva Fiesole, quindi la curva della Fiorentina, si è rifiutata di andare in segno di protesta, è stata giocata comunque Fiorentina-Juventus e tra i tanti anche l'ex Premier, il Presidente di Italia Viva o segretario, adesso non mi ricordo. Matteo Rinzzi. Sì, Matteo Rinzzi, sostanzialmente, ha detto che la polizia, eccetera, eccetera, non servivano allo stadio ma servivano ad aiutare appunto le persone a sparare il fango. Sì, c'è un po' di qualunquismo ma c'è un po' di tanta verità mi viene da dire in questo caso, in questo caso mi viene da dire così, ma soprattutto per l'ennesima volta un calcio che è completamente slegato dal paese ormai, diciamocelo. Io posso dirlo, io boicotto ormai il calcio da anni, lo trovo perché non è più quello sport che voi vi siete innamorati quando eravate piccoli, non è più quello sport del papà mi porta con la maglietta granata del Toro a vedere il Torino, non è più quella roba lì. Ma quello non lo è da 50 anni. Ecco, appunto, adesso è peggio ancora, cioè non è più neanche, guarda, ieri facendo una battuta in casa così ho detto ah, guarda, c'è la partita che inizia, ma sì, guarda, se non gioco a Ruth Gullit non la guardo. Cioè, come capisci, è quella roba lì, ci siamo rimasti lì e non è più quella roba lì, appunto. Dica, dica. In zona San Siro. Hai detto in zona San Siro, hai detto, non a San Siro. Sì, perché dovevo dire almeazza. Ok, va bene. Milan-Piesge, grandissima partita. Scusa, Milan? Piesge, Paris Saint-Germain. PSG? Sì, va bene. PSG. Ricordiamo che Marco Mazzei ha messo... All'asta. No, non è vero, ha fatto una... Il contesto dei biglietti. Esatto, il contesto dei biglietti. Dei biglietti, chiaramente gratuiti, eccetera, perché gli assessori, Marco, lo sappiamo. Fatto sta che domani... Ne parliamo dopo. Guè, insieme a Dernia e Shablo con 25 ore. Guè, Milano, eh? Milano, Stadio San Siro, PSG. PSG. Si stava parlando appunto che... Milan-PSG. Domani, gara chiave nel giro di Champions League. Milan-PSG, allerta, sicurezza, perché c'è la tifoseria del Paris Saint-Germain, appunto, che è di spaccata in due per fazioni... Ah, una roba interna loro. Esatto, e soprattutto preoccupa l'ala, come titola il giorno Milano, senza biglietto. Ossia, quel centinaio, 200 persone che si raduneranno fuori dallo stadio senza biglietto. e il PSG evidentemente non è... non è... non potrebbe... non sarà la prima occasione in cui potrebbero succedere disordine, quindi misure di sicurezza importanti. Zona blindata domani qua. Anche noi qui a Milano il News vedremo quindi la blindatura, perché siamo molto, molto vicini allo stadio. Che partita è? Di Champions League. Champions League, cioè quindi la Coppa dei Campioni. La Coppa delle Grandi Orecchie. La Coppa delle Grandi Orecchie, è vero, è vero, che forse è la Coppa più bella comunque, quando la vedi c'è proprio bella. È quella del Mondiale però. Dici, è una piccola e piscinina. Con il mondo. È piscinina. Però è oro. Qua lì è gigantesca, è bella la cosa. No, poi è bellissimo quando se la metti in testa. Si parla di calcio, non si può quindi non parlare di FIFA. Ultima mezz'ora di trasmissione, caro il mio Masieri Lorenzo. Esatto. E cosa succede l'ultima mezz'ora di trasmissione di solito. Mezz'ora degli ospiti. Oggi restiamo sul tema di giornata comunque di queste settimane. Il Paris Saint Germain e il Milan. No, assolutamente. La settimana scorsa tutti hanno parlato chiaramente di Seveso. Ma c'è chi parla di Seveso da ormai tanto tempo. È vero. E infatti è in collegamento con noi Matilde Minella del Comitato Bresso-Novasca. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno Matilde. Grazie mille di essere collegata con noi. Allora, questa settimana vi saranno fischiate le orecchie perché insomma la parola vasca l'abbiamo detta non so quante volte. Abbiamo pensato spesso a voi e infatti vi abbiamo voluto questa mattina ospite per capire un po' quello che è successo. Nel senso che io faccio riferimento anche Matilde, ti rubo proprio due minuti veloci a un articolo che trovate sul sito di Milano News le storie dove nel 2022 l'allora assessore granaliera all'urbanistica comunque l'assessore all'urbanistica ci ha detto questo. Allora, questa vasca sarà pronta nell'estate del 2022. Ok, estate 2022 così diceva. Diceva poi che vabbè, entro il 2023 fermava proprio ai microfoni di Good Money Milano nella metà del 2022 diceva che finalmente Milano non vedrà più il Seveso esondare. Matilde, cosa è andato storto? Cosa è successo? Allora, diciamo che la vasca del Parco Nord a parte tutte le sue criticità igienico-sanitarie di cui avevamo parlato anche in passato è una storia un po' strana di ritardi e accelerazioni senza senso. I ritardi è l'anno e mezzo di ritardo rispetto alla data del giugno 2022 che c'è su tutti i rendering che circondano la vasca e in cui l'assessore Granelli aveva garantito che l'impianto sarebbe stato messo in funzione e invece c'è stato un anno e mezzo di cantiere attivo ancora. Adesso la vasca è ultimata ma mancano tutti i collaudi e proprio durante le forti piogge che hanno colpito il Nord Milano l'assessore Granelli ha deciso di saltare i collaudi e mettere potenzialmente in funzione la vasca prima che questi fossero finiti o meglio cominciati. Questa cosa ovviamente quando l'ha comunicata sui suoi social e ovviamente è arrivata alle nostre orecchie di residenti di attivisti eccetera ci ha lasciato abbastanza sconvolti perché appunto dopo ritardi su ritardi spesso attribuiti addirittura ai ricorsi dei comitati che non hanno mai bloccato assolutamente niente se no avremo saremo più contenti a parte gli scherzi che erano stati attribuiti a mille cause invece erano ritardi sempre in siti ai lavori mai attribuibili a cause esterne abbiamo visto che questo famigerato 3 novembre in cui scopriamo dall'assessore che dovevano cominciare con l'audi iniziare con l'audi la famosa paratia di accesso alla vasca veniva aperta e quindi una struttura non collaudata quindi senza tutte le garanzie per il territorio eccetera e in una fase in cui ancora non abbiamo nessun piano specialistico di pulizia dai fanghi sarebbe potenzialmente stata usata quindi un'accelerazione spropositata rispetto a ritardi secolari poi Granelli poi ha fatto tutto dicevi Lorenzo sui social ha spiegato tutto no che è successo siccome ha ricevuto molte domande sulla vasca di laminazione ha cercato di condensarle tutte in 5 minuti in cui sostanzialmente risponde a tutte le perplessità e sostanzialmente ha detto la vasca è stata ultimata a settembre dovevano esserci collaudi eccetera però sostanzialmente appunto come si diceva sono saltato non è più che sono saltate le fasi Granelli dice già che stiamo facendo i collaudi e c'è l'alerta gialla la usiamo sostanzialmente diciamo che l'emergenza ha dato un'accelerata ma io quello che mi chiedo però è questo attualmente appunto l'apparatista è aperta abbiamo visto quello che è successo comunque il venerdì cioè il venerdì è venuto giù bastatemi il termine poco scientifico un fracco d'acqua cioè adesso com'è la situazione lì nel senso tu dicevi non c'è ancora ad esempio un contratto con chi dovrà pulire le vasche non c'è ancora un piano per la pulizia delle vasche perché ricordiamo bene qual è il tema cioè voi non siete contrari adesso ve lo dico proprio non siete contrari al laghetto sotto casa giusto? allora esatto perché non si tratterà mai di un laghetto per cui esattamente nel senso che noi siamo contrari a un'opera che è stata un'opera devastante inserita in un contesto molto particolare molto difficile incastrato tra abitazioni e scuole per cui con tantissimi target sensibili ricettori sensibili come si dice per cui non è stata applicata nessuna mitigazione con molto consumo di suolo cementificazione quindi per assurdo anche sottrazione di terreno libero filtrante all'azione che diciamo di solito sottrae pioggia al seveso quindi un po' un progetto contraddittorio che è stato lasciato da solo perché nessuna vasca monte non solo vi dico non è stata fatta non è stata neanche cantierizzata soltanto Senago ha un cantiere che va avanti da tantissimo tempo ma verrà realizzata una vasca parziale che ha uno scopo locale le altre due del sistema sono rimandate scusa Martina mi stai dicendo che in questo momento né Senago né Lentate funzionano come dovrebbe funzionare no non c'è neanche il cantiere ok no perché sempre nel famoso articolo su Milano News noi avevamo scritto perché detto da Granelli che a fine 2022 dovevano essere funzionanti Senago Milano e Lentate assolutamente ma lo stiamo scoprendo anche noi Senago sta realizzando la prima di tre vasche in serie che praticamente lamina le acque dei torrenti locali Pudig e Garbogera e quindi non il Seveso Lentate non è neanche stata cantierizzata l'area perché alcuni nostri amici sono andati a vedere e non c'è il cantiere e Varedo Paderno ha ovviamente la problematica della bonifica che ancora non è stata messa in atto dei terreni per cui la vasca di Milano Bresso Parco Nord come la vogliamo chiamare è l'unica che adesso può entrare effettivamente in funzione ovviamente sobbarcandosi le piene che arrivano da monte perché questo è un altro dei nostri motivi di contrapposizione questa vasca è stata progettata per le famose bombe d'acqua quelle che cadono su Milano e basta noi non siamo in grado dicono come dire territorio e anche l'impianto di laminazione di laminare appunto una piena corposa come quella che corre da Como a valle senza nessun area di sfogo per cui un pericolo a nostro parere anche idraulico e questo però ormai alla prossima precipitazione è tutto pronto la paratia può essere alzata la vasca può essere usata e oltre a questo che vi raccontavo non c'è ancora un piano di pulizia serio che ci dirà come verranno trattati i fanghi campionati asportati rimossi e grave parimenti o forse anche di più non sappiamo chi gestirà la vasca l'ente che la gestirà al momento chi è che ha il pulsante rosso per aprire e chiudere la paratia al momento allora praticamente la gestione pratica a livello cantieristico e di metropolitana milanese infatti noi a metropolitana milanese sui ingegneri mercoledì 8 novembre andremo proprio al quartier generale della vasca al cimitero di Bruzzano busseremo la porta e chiederemo queste cose che ci stiamo dicendo perché nelle nostre attività di presidio non andiamo spesso dalle istituzioni e andremo a chiedere questa cosa invece a livello di decisione idraulica è Aipo perché Aipo decide su tutto il vaccino chiarissimo chiarissimo allora torniamo subito sul tema Matilde stavamo parlando appunto delle vasche del Seveso raccontiamo un po' appunto a chi magari non è lì della zona adesso com'è la situazione nel senso in questo momento abbiamo scondurato diciamo il riempimento della vasca giusto? Sì la vasca in realtà come opera è ultimata nel senso che stavano lavorando le opere accessorie ad esempio la pista ciclabile che la circonda quindi è ultimata però è ancora cantierizzata cioè l'area noi non abbiamo accesso hanno già messo tutti i segnali passaggi a livello di sicurezza ma noi non abbiamo alcun accesso all'area però la vasca d'ora in poi potrà essere utilizzata quindi c'è stato un balzo in avanti invece di aspettare tutto il cronoprogramma di conclusione dei collaudi inaugurazione bla 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 diciamo che il comune di Milano ha deciso di renderla utilizzabile ai fini della laminazione delle piene del Seveso il video mancano però degli anelli perché non si sa ancora come dicevamo prima chi la gestirà né chi la pulirà come con quali soldi è brutto dirlo ma c'è anche questo con quali interventi noi speriamo specialistici con quali campionamenti noi speriamo fatti da enti competenti ma tutto questo non è stato deciso né discusso nemmeno Granelli nel video appunto a cui facevo riferimento prima dice che i collaudi anzi queste prove dureranno tre settimane più o meno e da fine novembre sarà ufficialmente in funzione eccetera il problema appunto che sollevavo anche fuori onda è il fatto della narrazione ossia quando sarà pronta la vasca allora niente più danni ai commercianti dell'isola niente più più Seveso che esonda eccetera eccetera ecco quello forse è una narrazione il signor Beda sarà felicissimo una parola il signor Beda della Bed House sarà felicissimo di avere questa vasca a parte che è di un'opera non ultimata io non direi robe del genere bisogna comunque vedere sì anche quello è vero e poi appunto come dicevi te Fabio si rischia di si rischia un po' una volta si chiamava guerra tra poveri adesso non voglio dare dei poveri a nessuno ma nel senso è un po' la guerra tra cittadini poi diventa però ovviamente voi dite no ma quelli che stanno due chilometri più in giù dicono no no aprite quella maledetta vasca perché non vogliono più l'acqua in casa cioè acqua in casa che voi non avete mai avuto giusto nel senso voi non riuscite sempre a scamparla fino adesso però adesso rischiamo molto di più perché quando il seveso è diventato un canalone di questa portata senza più filtro diciamo della vegetazione riparia con i massi cementificati è tutto diverso infatti l'acqua purtroppo accelerano e questo danneggia anche Niguarda danneggia anche l'isola perché prima l'acqua veniva in un certo senso centellinata poi molto veniva fatto dalle precipitazioni nei tombini che ovviamente poi esplodevano invece adesso proprio quella portata che arriva dall'Abrianza viaggia a delle velocità che noi non abbiamo mai visto e questo ovviamente danneggia anche i quartieri esondati il problema è che questa vasca e lo spiegava l'assessore Granelli l'ha detto nei vari interventi di questi giorni gli è scappato non eviterà le esondazioni ah gli è scappato questa cosa forse la ritarderà sì 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 no guarda l'ha detta in diverse interviste e ha detto al limite la ritarderà l'esondazione di due ore però se l'esondazione deve durarne sei e mezzo le altre tre e mezzo sono inevitabili perché le altre vasche non ci sono questo già ci dà l'idea di come questo piano si era affazzonato senza offesa veramente e poi soprattutto manca di troppi tasselli che darebbero sicurezza al territorio ma non solo a noi perché noi appunto come dicevamo in questa guerra tra cittadini non ne possiamo più anche perché non è vera noi spesso andiamo a frequentare anche le zone famose dal lago di guarda del parco ci interfacciamo con i cittadini sia dell'isola che di Milano siamo tutti qui che di mi guarda e condividiamo le stesse preoccupazioni le preoccupazioni di essere in mano ad un progetto che comunque ha saltato tanti passaggi soprattutto a nostro parere di controllo igienico sanitario non ha fatto una valutazione di impatto sanitario come noi spesso abbiamo chiesto ha fatto dei monitoraggi per carità i monitoraggi validi li abbiamo utilizzati perché erano supervisionati da ARPA ma che non hanno modificato l'andamento del cantiere che non metteva in atto prescrizioni che sollevava comunque polveri pericolose e questo è il passato d'ora in poi parleremo di esalazioni parleremo di fanghi potenzialmente inquinati e come si fa a esporre una comunità nostra di 2.000 cittadini e 3 scuole ma anche mi guarda anche Cormano perché l'aria viaggia a esalazioni di 250.000 metri cubi cioè 100 piscine olimpioniche equivalenti di acque inquinate lo dice ARPA non lo diciamo noi comitato Novasca e con molti reflui fognari perché tutti gli allacciamenti delle fogne in seveso finiscono qui infatti se voi andate a guardarvi i dati dei monitoraggi ambientali resi proprio da metropolitana milanese per cui cioè non di parte nostra no? su questo devo dare devo dare atto al vostro comitato che quello che dite sono dati che arrivano quasi sempre dall'altra parte in realtà cioè ARPA MM comune che danno dei dati voi semplicemente li leggete dalla vostra parte dicendo ma scusate ma c'è il chito qua non è che stiamo inventandoci niente no no su questo devo dare insomma adesso esatto come dici tu adesso mi dicono che c'è una contaminazione anche da batteri di origine fecale alta alta come non c'è nel seveso altrove dai non normale no? c'è chi ha finalmente la metropolitana in sua casa e chi può avere una fogna in sua casa siete contenti? finalmente no? felicissimi infatti immagino 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 matilde dacci un po' le coordinate invece per seguire da più vicino il comitato perché so che insomma non vi hanno ancora fatto l'inaugurazione che vi tolgono un momento più bello sarà per voi potervi rovinare immagino potervi rovinare l'inaugurazione è ovvio allora le nostre coordinate sono la pagina facebook Bresso Novasca dove noi aggiorniamo più che settimanalmente con tutte le attività i video dei nostri presidi i testi dei nostri volantini la stampa che parla di noi quando ne parla eccetera e ovviamente preannunciamo le nostre attività sul territorio e una di queste come ti dicevo è mercoledì mattina a 10.30 al piazzale del cimitero di Bruzzano davanti al quartier generale di MM della Vasca saremo in presidio a chiedere e cercare di incontrare gli ingegneri a cui abbiamo fatto richiesta ad incontro gli ingegneri di metropolitana milanese per avere le risposte ai quesiti che vi sto esponendo quindi su pulizia gestione sicurezza idraulica tutto quello che manca dobbiamo sentirci allora poi giovedì per sapere come è andata a sto punto organizziamo per sapere per sapere cosa mi hanno detto va bene matilde grazie mille grazie a voi per l'ascolto e l'attenzione grazie ciao ciao grazie ciao 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 ciao